Ciao a tutti, avete letto bene dal titolo. Ho lasciato il Politecnico di Milano, ho lasciato il Polimi e ho mollato Ingegneria Informatica in Magistrale. Un breve recap della mia storia per capire bene. Io mi iscrivo al Politecnico nel 2017, anno in cui faccio la maturità al liceo scientifico, e inizio il mio percorso in Ingegneria Fisica. Non so perché ho scelto Ingegneria Fisica. All'inizio pensavo che facesse figo fare Ingegneria, perché la facevano un po' tutti i miei compagni del liceo, perché è una facoltà un po' socialmente accettata ad oggi, in cui diciamo c'è un futuro ben delineato, soldi, lavoro. Fisica mi piaceva, comunque Matematica e Fisica erano le materie in cui andavo bene al liceo, Scienze, Matematica e Fisica inglese. Allora ho detto perché non immatricolarsi in Ingegneria Fisica, che tra l'altro aveva degli ottimi dati, perché non so se è ancora valido. Però all'epoca il 100% dei laureati in Ingegneria Fisica aveva un posto di lavoro dopo la laurea, soprattutto se siete uno studente del liceo che non sa che cosa fare della propria vita. Cioè io. Mi sono immatricolato in Ingegneria Fisica, ma io non sapevo cosa sarei andato a fare dopo la laurea. Non avevo la più palida idea, non avevo nessun progetto di carriera, nessun obiettivo di carriera, niente di niente. Sapevo solo che dovevo andare a fare l'università perché è quello che ti insegnano al liceo. Cioè tu finisci il liceo e devi fare l'università perché con il diploma non hai in mano niente. Vero puoi buttarti subito nel mondo dell'imprenditoria, della libera professione, però è un mondo... È un po' come l'oceano, no? Pieno di squali, voi siete un piccolo pesce e chi lo sa cosa può succedere. Quindi ho scelto la strada safe, consigliata e accettata da tutti, che era quella della laurea. Durante il secondo anno di Ingegneria Fisica mi accorgo che Ingegneria Fisica non mi stimola perché è molto incentrata su ottica, materiali, nanotecnologie, che fa figo però non mi faceva impazzire. Al che decido di fare un cambiamento di facoltà, siccome, non so se lo sapete, ma le Ingegnerie sono abbastanza equivalenti. Cioè il primo anno, almeno al Polimi, è praticamente uguale per tutte, cioè al massimo c'è un esame di differenza. Quindi tu puoi cambiare al secondo anno e non perdere anni. Però, per questioni accademiche, il cambio si può fare soltanto all'inizio dell'anno accademico, quindi ho dovuto aspettare la fine del secondo anno. Scelgo Ingegneria Informatica. Anche qua, Ingegneria Informatica, non so come io abbia fatto a scegliere Ingegneria Informatica. Sì, è vero che Informatica mi interessava ed era una materia che mi piaceva, tant'è che in un vecchio video del canale l'avevo anche detto. Però, una volta sbarcato Ingegneria Informatica, mi sono accorto che le cose non è che erano cambiate. Cioè non è che a me non piaceva Ingegneria Fisica, io volevo fare Ingegneria Informatica. È che a me sì, non dispiaceva Ingegneria, però non sapevo cosa sarei andato a fare dopo l'università. E questa incertezza protratta negli anni ha via via fatto aumentare il mio stress. Insomma, non la stavo vivendo bene all'università, anzi per niente. Soprattutto nei periodi della sessione, cioè proprio avevo uno stress assurdo che dava anche delle manifestazioni fisiche. Perché lo stress, non so se lo sapete, ma ha effetti sul corpo, non solo sulla mente. Fast forward di qualche semestre, arrivo quasi alla fine del mio percorso che non so proprio cosa fare dopo. La strizza di doversi laureare e di fallire le scadenze mi ha, diciamo, distratto dalla questione. E quindi mi sono impegnato e ho dato gli ultimi esami. Nell'estate del 2021 io ho affrontato la mia ultima sessione al Politecnico. In cui dovevo dare tre esami a settembre, gli ultimi tre che mi erano rimasti. Che sono fondamenti di elettronica, sistemi informativi e economia e organizzazione aziendale. Perché a Ingegneria Informatica e anche ad altri c'è un esame di economia da dare. Finito, fantastico, mi laureo il giorno 22 settembre. E quel giorno ho il colpo di fulmine. La realizzazione in cui dico, e mo' che caspita faccio della mia vita? Bella domanda. Ed ero spiazzato perché proprio non avevo idea di cosa sarei andato a fare. Ho detto, sì, mi matricola la magistrale, così nel mentre. Sai, è come se a un certo punto cadi in un torrente e la corrente ti trascina. Tu non è che sei molto entusiasta di quello che stai facendo, però c'è un passo dopo l'altro. Diciamo, c'è questo percorso che ti indirizza verso il mondo del lavoro e li finisci poi. Ma non era quello che volevo fare, non era quello che mi entusiasmava. Perché è brutto da dire, ma se voi andate, secondo me ovviamente, prendete queste parole come opinione mia personale. Io non vi sto dicendo mollate quello che state facendo. Perché è normale avere dei periodi di crisi. Ci sta avere quella sessione che va male e dici, madonna, forse non sono portato. Ma non sono quelli i campanelli d'allarme. I campanelli d'allarme sono se per anni non vi stimolano più le cose, non siete curiosi di quello che fate. Proprio interesse molto molto basso, se non nulla. Che era il mio caso. Facevo anche fatica a parlarne, tra l'altro, perché mi vergognavo un po' di questa situazione. Perché poi nel mentre è esplosa su YouTube la moda di ingegneria, ingegneria informatica. Quindi sembrava quasi un po' come andare controcorrente a dire che non volevo fare quello. Più dirlo a amici, parenti, è un casino. Vabbè. Arriva il momento in cui scelgo di prendere sul serio i miei obiettivi e la mia carriera, la mia carriera futura. Cioè cerco di capire, fare mente locale e dire troviamo qualcosa che mi stimola, che mi dà uno scopo. In modo tale da non risentire dello stress e dell'ansia del non sapere cosa fare della propria vita. È proprio lì che mi dico, ma ha senso incamminarsi in una carriera che sì, è sicura, piace a parenti, amici, conoscenti, eccetera, eccetera. È assodata, però non ti dà niente a livello sentimentale, emotivo o quasi niente. Oppure bisogna davvero, soprattutto a quest'età, ai 20 anni, sfruttarli, rischiare un po' nella vita e cercare qualcosa per se stessi che dà un senso di realizzazione. Sono arrivato alla conclusione che, per come la voglio vivere io, la mia ovviamente, di vita, la seconda opzione, la seconda strada, era quella più adatta per me. Al che ho fatto la rinuncia agli studi un bel giorno, nel 2022, sono andato sul portale dei servizi online del Politecnico e ho fatto la rinuncia agli studi. E devo dire che quel giorno ho provato un senso di estremo sollievo, come se mi fossi tolto un peso gigante. Avevo capito che non faceva per me quella cosa e che volevo inseguire il mio sogno di iscrivermi a Medicina e iniziare quel percorso. E di riprendere a fare il canale che, tra le tante cose, il canale YouTube, che è questo qua, che tra le tante cose avevo pure smesso di fare perché ero stressato. Mi ero un po' perso via, diciamo, gli ultimi anni di ingegneria. Avevo un po' perso... mi ero un po' perso per strada e le mie passioni non le stavo più coltivando. Avevo iniziato il canale YouTube che era andato bene e poi avevo mollato. Ho detto che voglio riprendere bene col canale, voglio capire bene cosa farò della mia vita. Ho scelto Medicina, voglio concentrarmi, fare il test e entrare e stravolgerla completamente. Un altro dei motivi per cui ho scelto proprio di ripartire da zero, fare tabula rasa, è stata l'università. Nel senso che io ho sempre sognato la carriera universitaria, cioè vivere l'università benissimo. Farla bene e ovviamente essere soddisfatti del percorso. Il mio percorso in ingegneria, non essendomi piaciuto così tanto, non avendolo sentito mio, non mi ha dato quale soddisfazione in ambito accademico che io cercavo, oltre alla soddisfazione principale del mi deve piacere quello che faccio. Queste due cose sommate mi hanno fatto dire facciamolo, ripartiamo da zero. Così, nel mentre ho iniziato a lavorare, nel video che vi linko in descrizione spiego meglio cosa ho fatto, comunque faccio il pizzaiolo per ora, ho iniziato a studiare per il test di medicina, sono entrato a quello del San Raffaele e a settembre, il 6 settembre, avrò quello nazionale, e nel mentre ho anche deciso di riprendere in maniera consistente questo progetto del canale YouTube, perché è quello che nel mio piano mi consentirà di diventare indipendente ancora mentre studierò. ispirandomi un po' a YouTuber che seguo dalla community americana, dalla community inglese, perché in Italia c'è poco e la gente ne parla poco. Allora diciamo, su quel tipo di percorso io vorrei crearmi un'infrastruttura con il canale che mi permetta di diventare indipendente e inseguire il mio obiettivo nella laurea in medicina. Se anche voi state affrontando un periodo di crisi, non sentitevi soli, non abbiate paura di parlarne con qualcuno. So che provate una sensazione di vergogna estrema nel dire no, voglio mollare, perché soprattutto se fate magari una facoltà ambita o molto importante, perché dite, lascio magari ingegneria, la gente pensa che non valgo niente. Assolutamente no, o meglio, ci saranno sempre quelli che lo penseranno, ma perché quelli hanno problemi con la loro di vita. Voi non fatevi intaccare da quella gente, non ascoltateli. Ascoltate quelli che vi incoraggiano e quelli che vi fanno delle critiche costruttive per farvi ragionare. Ma al di là di questo dovete ragionare con la vostra di testa. Quindi se siete insoddisfatti o avete qualche problema, non abbiate paura a parlarne qua nei commenti. È già un primo passo scriverlo a qualcuno per iniziare a risolvere il proprio problema e non mollate, mi raccomando. Ci vediamo con il prossimo video, spero vi sia piaciuto. Ciao!